Pochi ombrelloni destinati alle strutture ricettive della città a pochi giorni dall'inizio della stagione estiva. È iniziata evidenziando la maggior problematica riscontrata tra titolari e gestori delle strutture ricettive cittadine l'Assemblea degli Albergatori Pesaresi. A sottolineare le carenze riscontrate in tema spiagge è stato il presidente APA Hotels Fabrizio Liva. Questa è l'Assemblea prima dell'apertura della stagione che anche questa non presenta non poche difficoltà. Ovviamente è stata un'Assemblea molto partecipata, c'erano tantissimi albergatori. L'argomento clou non poteva che essere quello delle spiagge, dove purtroppo ancora ci sono albergatori che non hanno la possibilità di avere gli ombrelloni, quindi rischiano comunque di rinunciare a delle prenotazioni. Noi abbiamo avuto un incontro anche stamattina con l'amministrazione comunale. Abbiamo fatto in queste settimane una grossa azione di pressione nei confronti dell'amministrazione affinché mettesse a disposizione altri fondi per il ripascimento delle spiagge, li abbiamo ottenuti. Vorremmo che questi soldi per il maggior ripascimento servissero a dare più ombrelloni agli albergatori. I prossimi giorni saremo convocati assieme agli operatori di spiaggia in comune per essere conseguenti. Durante l'Assemblea si è poi discusso dell'assetto e della redurbano della zona mare per la prossima stagione estiva. In questo caso critiche e voci di dissenso sono state espresse soprattutto per la riproposizione dell'isola pedonale lungo viale Trieste. Si è discusso della redurbano della città, in modo particolare si è discusso della zona di Levante e della zona di Ponente. La soluzione di Levante è abbastanza condivisa perché l'abbiamo chiesto noi come albergatori, era prevista la ruota panoramica, è stata spostata. Ora ovviamente comunque il piazzale Trieste va abbellito e va fatto un minimo di animazione. Mentre per quello che riguarda la zona di Levante, quindi l'isola pedonale, questa isola pedonale non è molto condivisa da noi e quindi avremo auspicato il non ripetersi, il non ripetersi la situazione del 2020, perché rischiamo di avere il piazzale Trieste desertificato dalle 9 del mattino fino alle 18 del pomeriggio. I numeri elencati dal presidente Oliva parlano di una riapertura graduare delle strutture, con il 60% degli alberghi, stagionali compresi, pronti a riaprire entro i primi giorni di giugno, per arrivare poi alla completa ripresa entro la fine del mese. Tra le novità annunciate, la Costituzione, insieme agli albergatori di Gabicce, dell'Associazione del San Bartolo, per una promozione del territorio unita insieme ai territori della Riviera, Pesaro, Gabicce e Gradara. Sulle tematiche nazionali, Oliva ha sottolineato la necessità di abolire il coprifuoco già a partire dall'inizio del prossimo mese, mentre a livello locale è stato firmato, insieme al presidente Aspes Luca Pieri, un accordo che garantisce uno sconto a dipendenti e turisti degli alberghi per effettuare tamponi rapidi nelle farmacie comunali. Noi siamo stati la prima associazione in Riviera a fare l'accordo con le farmacie comunali per poter fare i tamponi sia per i turisti sia per i dipendenti delle strutture ricettive. Quindi la Convenzione prevede la possibilità presso le due farmacie comunali che sono in zona mare, quindi in Viale Fiume e a Soria, di poter fare i tamponi al prezzo scontato di 12,70 euro. Grazie a tutti.